Zona gialla rafforzata, con divieto di uscire dal proprio comune a Natale e Capodanno. E l'ipotesi che emerge dalla riunione del Premier Giuseppe Conte, con i capi delegazione e il Ministro Boccia, in vista del varo del nuovo DPCM con le misure di contrasto al Covid. Il Governo ha definito l'ossatura di massima del provvedimento. Lo stop agli spostamenti tra comuni potrebbe valere nei giorni al 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio. Dal 21 dicembre, inoltre, gli spostamenti tra regioni gialle potrebbero essere consentiti solo per far ritorno al proprio luogo di residenza, con una previsione che dovrebbe essere stesa ai luoghi di domicilio. Non dovrebbero essere modificati i criteri che, fin dal primo DPCM, definiscono le eccezioni. Si può muovere per comprovate esigenze lavorative o situazioni in necessità, ovvero per motivi di salute. Stop sempre dal 21 dicembre, invece, agli spostamenti tra le regioni per raggiungere le seconde case e crociare ferme nel periodo natalizio. Una zona gialla rafforzata, come l'ha definita Conte, che servirà per evitare di andare a sbattere contro una terza ondata. Il presupposto di partenza è il probabile passaggio in zona gialla di tutte o quasi le regioni nelle prossime settimane, con possibile discesa sotto uno dell'indice RT di trasmissione del virus. Resterebbe dunque confermato il coprifuoco alle 22, anche nel periodo natalizio. Il nuovo DPCM, che sarà in vigore al 4 dicembre, dovrebbe anche confermare, come annunciato, l'apertura dei negozi fino alle 21, per provare a limitare gli assembramenti. Nella zona gialla i ristoranti dovrebbero restare sempre aperti a pranzo, anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno, mentre dovrebbero restare in vigore le limitazioni legate al distanziamento e ai posti e ai tavoli. Per le abitazioni private, invece, dovrebbero essere dettate solo raccomandazioni.